Se state per convolare a nozze o se state semplicemente pensando, venite a scoprire il nuovo servizio di Mobilia Megastore Wedding by Mobilia. Un'idea molto innovativa che solo un grande centro arredamenti come Mobilia Megastore, sempre vicino alle esigenze dei clienti, può creare. Grazie alla formula All Inclusive di Wedding by Mobilia sposarti è più facile e soprattutto più conveniente. Pensate, solo 17.900 euro per avere. Siete pronti? La Wedding Planner per organizzare il matrimonio, l'abito da sposa, il servizio fotografico, l'auto nuziale con autista, le partecipazioni, il pranzo nuziale in una location da favola, un bellissimo viaggio di nozze e un arredamento completo che puoi scegliere tra classico e moderno. E il tutto a soli 17.900 euro che puoi pagare in 48 mesi a interessi zero. E per altre informazioni visitate il sito mobiliawedding.it oppure vi aspettiamo da Mobilia Megastore. C'è un'area completamente dedicata al matrimonio dove vi aspetta una Wedding Planner che vi illustrerà senza impegno ogni aspetto di questo rivoluzionario servizio dedicato a chi sta per dire di sì. E per darvi qualche anticipazione abbiamo incontrato per voi una Wedding Planner di Wedding by Mobilia. Ciao Lucia, allora spiegaci qual è il ruolo della Wedding Planner. La Wedding Planner cerca di trasmettere attraverso la propria esperienza un senso di fiducia e tranquillità per minimizzare lo stress che è associato alla parola matrimonio. Nella prima fase spiega i vantaggi che l'offerta di Mobilia propone e nella fase di preparazione dell'evento guida gli sposi nella scelta. Quindi voi seguite gli sposi, cioè proprio dall'inizio alla fine? Sì, coordiniamo i vari servizi offerti che siano quelli che la coppia desidera e accertiamo il giorno dell'evento che tutto sia portato avanti a secondo come disposto. Qual è il tipo di consiglio che date più di frequente agli sposi? Tenendo in considerazione quelli che sono i loro desideri, quelli che sono in particolare per la sposa, in quello che è il suo sogno, cerchiamo di guidarla nella scelta delle partecipazioni, nella scelta dell'abito, nella scelta anche a volte della location, cose un po' più frivole tipo che tipo di pettinatura o che tipo di smalto devo mettere. Cose che sembrano abbastanza frivole però sono molto importanti per quel giorno. Ecco, mi sembra di capire che questa offerta ha un costo medio di 17.900 euro. Esatto. Noi abbiamo pensato che con questo prezzo di 17.900 sia un'offerta che sia molto soddisfacente con un buon arredamento, però abbiamo anche altre soluzioni che possono costare di meno. Ma devo aver già fissata la data? Assolutamente no. Puoi fissare il pacchetto, bloccare l'offerta, poi decidi il numero di invitati, la data, con carta. Quindi voi offrite un servizio professionale con garanzia al 100%. È esattamente così. Mobilia si è rivolta a dei soci affiliati in questo progetto da cui da loro pretendiamo la stessa professionalità e qualità che offre Mobilia per dare un servizio come Mobilia offre da sempre, con professionalità a un prezzo ottimo. Sentito, viene voglia di sposarsi. Eh sì, e poi ricordiamo che con Mobilia Megastore puoi pagare il tutto, matrimonio e arredamento, anche in 48 mesi a tasso zero. In questo modo il matrimonio non è più quel grosso impegno economico da affrontare. E poi nel servizio Wedding by Mobilia c'è anche la Wedding Planner che vi aiuta a fare le scelte migliori e sarà con voi al ricevimento per controllare che il tutto funziona alla perfezione. Ma ricordiamo che il pacchetto Wedding by Mobilia è un all inclusive e ti offre anche l'abito da sposa, il servizio fotografico, l'auto nuziale con autista, le partecipazioni, il pranzo nuziale in location da famola, il viaggio di nozze e un arredamento completo che puoi scegliere tra classico e moderno e il tutto soli 17.900 euro. E da come abbiamo capito questo prezzo si riferisce solo ad un pacchetto medio, si può spendere anche di meno. Un'altra cosa importante da ricordare è che l'arredamento che vedete nell'offerta è solo indicativo, perché da Mobilia Megastore ci sono tante altre soluzioni di arredo da poter scegliere. Wedding by Mobilia, il sogno più bello, si avvera. E inizia quando entrerete in uno dei centri Mobilia Megastore, perché, come si dice da queste parti, auguri e figli maschi. E ma perché qualcosa contro le donne? No, assolutamente, è un modo di dire, anzi... Don't suppose I'm coming down, can't see, high in the sky... A man with...